Ed eccoci al metodo Marie Kondo di cui vi ho parlato già in un precedente video Allora, in questo caso vi faccio vedere come piego una semplice maglietta Tracciamo il centro della maglietta e pieghiamo il lato più possibile avvicinandoci proprio al centro che abbiamo tracciato prima Vediamo di sistemare al meglio senza lasciare pieghe e poi ripieghiamo l'altra metà sempre più possibile al centro della maglietta Ripieghiamo quindi dalla base fino ad arrivare in cima più volte che possiamo, quanto è grande ovviamente la nostra maglietta Andiamo a piegare adesso una tovaglia da bagno Questa è aperta, questo è il dietro dello stemma che c'è al centro della tovaglia Quindi facciamo la stessa cosa, pieghiamo più possibile i lati avvicinandoli sempre di più E poi la pieghiamo su se stessa più volte che possiamo Un metodo davvero davvero semplice è questo di Marie Kondo Che vi consente di trovare subito al meglio le vostre tovaglie, le vostre magliette Senza andare comunque a scombinare interi cassetti armati Io amo davvero davvero tanto questo metodo E niente, spero di esservi stata utile Vi mando un grosso bacio e ci rivediamo nei miei prossimi video Ciao!